a Ragazzi vi ricordo che sono su Twitch quindi vi consiglio di seguirmi Vi potete trovare con il nome di Warthomas46 Inil'inizio in descrizione mi raccomando Prontano un sacco di giochi tra i quali Fortnite, Minecraft, Call of Duty Black Ops 4, Black Ops 3 e R2 Frame 4 e molto alto Quindi vi consiglio di seguirmi ora passiamo al video Una squadra tutta di schianti gavettazionali Cazzo vediamo un po' che cosa ci capita Questo è sicuramente il code migliore di sempre Ed è uno dei miei giochi preferiti in assoluto Sia per il multigiocatore che per i zombie Cioè i zombie in particolare Per il multigiocatore è davvero molto 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 bello Mi piace un sacco Peccato che non abbia giocato Allora qui con la neve non ci capisco un cazzo Qua c'è un bastardo E' una bestia Ci ha spaccati Questo qui STH Non ho visto bene il nome E' molto forte Dove cazzo sta? Vabbè non lo vedo non importa Io penso di averlo ucciso Levo la mira ovviamente Ma non è morto Prendo l'assist Ci sta Meglio di niente Eh devo puntare a sparare di più del Di quanto Di quanto mi ricordi Non è morto? Cioè è morto? Quando? Questa mappa non mi piace Qui ci Ci ammazziamo Andiamo a vedere gli alleati fortissimi Ma il versore sono comunque abbastanza forti Questo mi ha scassato Tommy Decomi con una Uzi Eh questa me la devo aspettare Me la sono rischiata troppo Madonna cosa stavo facendo la strage cazzo Facevo la strage Se la sono rischiata Cosa? Ma che cazzo di arma ha? Mi ha fatto sprecare il Ripper Non è morto Complimenti Manz Qua Eh ragazzi Sono Sono un legno Non riesco più a muormi Tra la visuale Vedete che Poi tengo mirato Ma questo? Questo era più legno di me Lancia fiamme Oh c'è uno col pompa Con l'Olimpia Doveva essere Doveva essere Va bene Va bene No cazzo Lancia fiamme Stiamo vincendo ma qui non farò un buon punteggio Perché la sto giocando abbastanza male Questo col cecchino è davvero bravo Magari sono io che non mi ricordo bene come funzioni Io comunque così col cecchino non sono mai stato bravo Quindi sicuro più bravo di me Vabbè questo è un po' cancro diciamo no? Oh questo è assurdo Mi ha preso pure in testa Ha attivato l'einbot cazzo Non penso sia aimbot comunque Cioè ora mi devo vedere un'uccisione Ma che cazzo è? Ah è un handicap Oh Qui c'è quella merda E vedete che Ho sbagliato Ho potuto ucciderlo tranquillamente anche l'altro Però Non punto abbastanza Cioè punto meno di quanto dovrei puntare Qui tre uccisioni di fila Che cazzo Qui c'era un bastardo nell'angolo ovviamente Che nessuno se l'aspetta Cioè quanto meno io non me l'aspetto Poi magari quelli che ci giocano la mattina e la sera Se l'aspetta Ma scusa che cazzo è che mi ha sparato col P06 Una Ma vaffanculo Quanti sono E anche sto stupido Perché se mi fosse ricordato di aver riperle Avrei ucciso tutti e due E ora Probabilmente andrò a spugnarli così Ma penso che l'abbiano Non capisco Non capisco Non ho capito un cazzo Dov'era No no Mi si è bloccato Pezzo di merda Vedi Ma perché ho una latenza così alta? Non è vero Non è vero Do qui in America Cazzo Non capisco perché delle volte Cioè non capisco In realtà lo capisco Comunque l'ho lasciato con pochissima vita Sempre il leggendario colpo mancante Fottiti 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 Ah è alleato questo Ma che cazzo Ma pensa quello che si è visto Oh porca Non sto guardando Quello che si è visto arrivare Con un sacco di colpi di riper Dun 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 No non so mica È stato fottuto Eh vabbè Oh nonostante io stia giocando male Stiamo vincendo Quindi dobbiamo cercare Di dare al nostro meglio Per portarci da casa Rietiamo questo duch Ucciso No Il pestone È stato utile In questo caso per loro Non me l'aspettavo Oh quest'acqua è tutta rotta Che cazzo Aia Uno mi ha sparato a sparare Ora probabilmente Riprendiamo qua Sì Ancora 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 No 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 Sbloccati cazzo Ma abbiamo vinto Va bene dai Terzo Neanche giocata così male Poi quindi Fa abbastanza bene Tutto sommato Erano avversari forti Comunque Non erano Per niente scarsi Adesso quello limpia Vediamo che giocata Buono Buono dai Buono Buono Il A Grazie a tutti 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 Madonna Che partita signori 15-4 C'è l'avversario era un pochino scarso c'è da dire Però è stata una bella partita Sosciuto a buttare anche un po' di specialità cosa che non accadeva da tanto quindi sono contento Terza Grazie a tutti